Stamattina è suonata la campanella per 500 studenti italiani delle scuole superiori impegnati negli esami di maturità. 2.270 i maturanti della provincia di Caltanissetta, circa 1.000 quelli del capoluogo che dizionari alla mano hanno dovuto scegliere tra una delle tracce individuate dal Ministero all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca. Tra le tracce proposte ai maturanti per l'analisi del testo, il poeta siciliano Salvatore Quasimodo, che non veniva proposto per gli esami di maturità da 12 anni, ossia dal 2002. Gli studenti che hanno scelto questa traccia hanno analizzato i versi della poesia Ride la Gaza, nera sugli aranci, dalla raccolta ed è subito sera. Il tema di ordine generale ha riguardato una frase tratta dal rammendo delle periferie, articolo di Renzo Piano, siamo un paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. Il confronto dell'Europa tra il 1914 e il 2014 tra le tracce per la storia. Nel centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, infatti, gli studenti sono stati chiamati a riflettere su come è cambiata la situazione del continente in un secolo. Per il saggio breve, in ambito artistico-letterario, il titolo è stato il dono, mentre per il saggio breve, in ambito tecnico-scientifico, gli studenti sono stati invitati a riflettere sulla tecnologia pervasiva. Violenza e non violenza, due volti del Novecento, la traccia in ambito storico-politico, mentre le nuove responsabilità, quella in ambito socio-economico. Siamo andati con le nostre telecamere all'Igeo Classico Ruggero VII, dove quest'anno i maturanti alle prese con gli esami sono in tutto 177. Sì, ho visto che sono molto tranquilli, sono entrati in maniera serena, abbiamo aperto le tracce, stanno già prendendo atto un po' dei contenuti, sono molto, dicevo, tranquilli, stanno riflettendo e sicuramente riusciranno a fare un compito corrispondente a quelle che sono le proprie, la propria preparazione, il proprio bagaglio culturale, sicuramente. Abbiamo visto un po' le tracce, penso che possano essere affrontate abbastanza serenamente dagli alunni, forse quella in cui potranno trovare una maggiore difficoltà è quella sull'analisi del testo, che riguarda Quasimodo, quindi non so se tutte le classi hanno svolto questo argomento. Le altre tracce, sia quelle relative al testo, al saggio, sia quelle relative al tema di carattere generale, sono abbastanza, diciamo, facili da affrontare, per cui penso che i ragazzi potranno lavorare serenamente. Oggi i ragazzi avevano anche l'obbligo di presentare l'argomento, comunque la tesina, per il successivo colloquio? Sì, dovranno presentare l'argomento da cui prenderà avvio il colloquio, potrà essere semplicemente l'indicazione dell'argomento oppure un lavoro multimediale. Lo presenteranno comunque domani, questa scelta la faranno domani.